ciao oggi ti presento la bmw 320 di touring eletta la vettura è una station wagon quindi una vettura più che altro familiare molto spaziosa all'interno dotata di cerchi in lega 16 pollici gli interni sono in stoffa la vettura è stata immatricolata nel 2010 a 125 mila chilometri è dotata di cambio automatico e da come puoi notare è stata tenuta molto bene gli interni anche la carrozzeria esterna si trovano in ottimo stato di usura è dotata inoltre anche del navigatore ha inoltre il volante multifunzione ecco davvero molto grande i sedili sono ribaltabili e quindi si recupera ancora altro spazio è una macchina davvero molto bella io che dire ti invito a venirci a trovare in concessionaria per fare una prova su strada della vettura mi chiamo simona lavoro presso l'aperito gruppo i nostri uffici sono aperti da lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 13 dalle 15 alle 19 e 30 il sabato dalle 8 e 30 alle 13 il nostro numero è 0975 520 350 vieni in concessionaria ti aspettiamo ciao